Il nostro pensiero, accorato con grande affetto, va naturalmente con tutto il nostro cuore a colui che per tanti anni, per tutti gli anni che c'è stata la proiezione della Madonna del Mare ha preparato la barca al signor Leone Mafrica che ci ha lasciato il 25 aprile di quest'anno. E il nostro pensiero va alla signora Adriana Martelli che ci ha lasciato il 9 marzo all'età prematura di 32 anni che l'hanno scorso insieme a noi su questa spiaggia ad accogliere la Beata Vergine Maria. E un pensiero affettuoso va anche alla mia mamma che si è spenta il 22 gennaio di quest'anno e alla mia zia che ci ha lasciati il 30 marzo sempre di quest'anno. Evviva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, adesso è l'ora della nostra morte, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, Amen! Evviva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Evviva Maria! Facciamo un grande applauso agli organizzatori della processione e un grande ringraziamento a tutto lo staff comitato festa padronale di Bova Marina li ringraziamo per la loro cortese, sempre attenzione nei riguardi del villaggio tutti la Maria ha toccato il suono, Anzi Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, Amen! Evviva Maria!